Tre comuni della provincia di Taranto, Castellaneta, Manduri e Motto, la in evidenza a livello nazionale, hanno ottenuto il premio comune Plastic Free, il riconoscimento a forma di tartaruga ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. In questa terza edizione sono ben 111 le amministrazioni. I comuni hanno superato una valutazione basata su 23 punti suddivisi su 5 pilastri, lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell'ente e collaborazione con la Onlus. In un biegno siamo passati da 49 a 111 comuni Plastic Free, segno che l'impegno delle amministrazioni locali, sostenuto dai nostri volontari e referenti, si diffonde sempre più, ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. Per il prossimo anno renderemo la partecipazione dei comuni più agevole, digitalizzando le procedure. Questi gli altri 5 comuni pugliesi, Cassano delle Murge e Gioia del Colle in provincia di Bari, Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, Castro e Spongano in provincia di Lecce. A premiare i comuni pugliesi l'onorevole Patti Labbate, vicepresidente della Commissione Ambiente e della Camera dei Deputati. Un riconoscimento importante che stimola a fare tutti quanto possibile di più. Tra micro e macro plastiche diventa importante preservare l'ambiente da un'aggressione spesso silente alla salute e alla stessa vita. Grazie a tutti.